2.000 euro a tanto a Monta, la refurtiva che in nottata è stata recuperata dai agenti della Polizia di Stato di Salerno e che era stata sottratta dall'Imperial Casa in via delle Calabria a Forni, nella zona orientale della città di Salerno. Il tentativo di furto messo in atto all'una circa di questa notte, due le persone che, secondo quanto raccontato da chi ha assistito alla scena, si sono introdotti all'interno dell'attività commerciale per portare via denaro contante. A quell'ora, infatti, erano ancora presenti persone in strada, considerata la vicinanza di alcuni bar locali, con i presenti che quindi hanno assistito, nello spavento generale, a quanto stava accadendo. Alcuni hanno raccontato di aver visto due persone incappucciate, completamente vestite di nero, entrare in azione, sono riusciti ad introdursi nell'attività commerciale di Forni rompendo un vetro, di cui poi hanno sottratto il denaro. Refurtiva che, come detto, è stata recuperata, fondamentale, l'intervento tempestivo della vigilanza e quindi delle volanti del 113, la Polizia di Stato sta lavorando sul tentativo di furto attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate che mostrano il momento in cui i malviventi sono entrati in azione, come raccontato sempre dai testimoni, probabilmente a bordo di una lancia Y, un episodio che ripropone il tema della sicurezza in città. Seppur notata, comunque il fatto si è verificato dinanzi ai tanti presenti che erano ancora nei locali e bar della zona. Grazie.